Ci troviamo oggi all'ospedale San Salvatore di Pesaro, ospedale che dallo scorso mese di dicembre, quattro mesi fa, si è rappropriato del suo dipartimento materno infantile. In pratica, dallo scorso dicembre si è tornati a nascere a Pesaro. C'è di nuovo un punto nascita dopo che per due anni e mezzo, da marzo 2020, questo è stato unicamente un persidio Covid. Di fatto qui potevano partorire solo le donne in stato di gravidanza con affezione da Covid-19. Non è più così dallo scorso dicembre. È un reparto che funziona, è un reparto che va a pieni giri da quattro mesi. Vi porteremo a scoprire come si è riorganizzato questo dipartimento, dai corridoi alle stanze dei vari reparti, fino alle sale parto. Chiaramente finita l'emergenza Covid, si è ritornato all'apertura di questo punto nascita, che era stato creato dal punto di vista strutturale nel 2015. Abbiamo delle sale efficienti, c'è la sala addirittura anche per il parto in acqua, che è una richiesta per molte partorienti. E soprattutto diciamo che l'apertura di questo punto nascita, che era aspettato dai pesaresi, e quello che io ci tengo a dire è stato aperto in piena sicurezza. Noi abbiamo la presenza di due medici H12, dalle 8 alle 20, e la presenza di un medico di notte. La presenza del medico di notte è praticamente lavoro in reperibilità, per cui noi siamo H24 nella condizione di poter rispondere sia alle urgenze che anche alle emergenze. Garantiamo servizi ambulatoriali nel primo, secondo e terzo trimestre, garantiamo il servizio di gravidanza a rischio, il servizio di gravidanza a termine, senza praticamente tralasciare il grosso lavoro che facciamo a livello ginecologico. Noi come ginecologia, il punto di Fano e Pesaro, di cui io sono direttore, praticamente svolge e porta avanti un'attività ginecologica molto importante, che diciamo a livello marchigiano è una delle più importanti, perché oltre a trattare patologie benigne ginecologiche, insieme alle unità chirurgiche di chirurgia generale e di urologia, praticamente abbiamo creato un gruppo oncologico che affronta le patologie oncologiche della sfera femminile, quali il carcinoma della cervice, il tumore dell'ovaio e il carcinoma dell'endometrio, che sono delle patologie abbastanza importanti, che fino a qualche anno fa, praticamente, le pazienti che ne venivano colpite si guardavano altruve per risolvere queste patologie. Oggi noi circa il 70-80% di queste patologie vengono trattate con buoni risultati. Tra le criticità che avete dovuto affrontare al momento del raddoppio di punto nascite dopo questi due anni e mezzo di unico presidio, diciamo a Fano, c'è stato anche quello della forza lavoro del personale, è una situazione che si riesce in questo momento ad assorbire, a gestire? Allora, sicuramente non è stato il momento più felice per riaprire due punti nascita, però la volontà del cittadino è sovrana, per cui i professionisti e la direzione si sono impegnati tutti per poterlo garantire. Questo devo dire che comporta sforzi, per cui dobbiamo fare anche attività aggiuntiva, fare turni superiori e con carichi di lavoro maggiori. Questo non vuol dire non mettere in sicurezza le partorienti, in realtà semplicemente è un periodo nel quale stiamo vivendo una sofferenza che è comune, meno male a tante specialità in tutto il resto dell'Italia, la soddisfazione torna dall'avere una gratificazione da parte delle nostre utenti che ci ringraziano per avere fatto questo. Le ostetriche e i ginecologi sono eccezionali, ci fanno sentire veramente a casa in un momento che per noi è molto, molto delicato, molto, quindi io auguro veramente alla città e al reparto di rimanere fisso qui perché è fondamentale per noi, veramente. Non abbiamo solo un punto nascita, abbiamo un percorso, che al di là del percorso ginecologico abbiamo il percorso che si prende cura dalla fisiopatologia della riproduzione, quindi dai problemi di sterilità con la PMA, con la precreazione medicalmente assistita, fino all'evento nascita. Abbiamo rinforzato la pediatria, continuiamo a fare bandi e concorsi, noi ci siamo, avete visto che l'ambiente è recentemente ristrutturato, sono ambienti belli, sicuri, i professionisti sono professionisti con comprovate esperienza, siamo a disposizione, per cui aiutateci a far capire che la situazione è tornata a quella di prima. Qualcuno non si è accorto, ma lo dico non in termini polemici, che nella provincia di Pesaro è avvenuta una cosa unica nella regione, cioè un'azienda è stata chiusa di fatto e verrà reincorporata in un ramo d'azienda che poteva essere l'area vasta 1 rispetto all'Azur. Quindi qui, come sono solito dire, abbiamo due di tutto e dovremmo portare tutto a 1. Abbiamo, non so, due regolamenti per la mensa, due regolamenti per i trasporti, due regolamenti per due RSU, quindi c'è un lavoro di preparazione dell'azienda che richiederà molto tempo e molta pazienza e credo che occuperà buona parte del tempo del futuro direttore generale che dovrebbe essere nominato ai primi di giugno. Quindi ecco, questa è una peculiarità di questa azienda, in cui si inserisce anche la presenza non di due, ma di tre punti nascita, perché abbiamo anche Urbino ovviamente, dove la difficoltà maggiore qual è? Qual è di recuperare personale. In questo momento il nostro crucio è che avremo le possibilità economiche di assumere, ma non troviamo professionisti. In questi anni, soprattutto dovuta alla pandemia, abbiamo subito notevoli cambiamenti e almeno due, ma ce ne sono altri di coordinatori al nostro fianco, hanno lavorato con grande dedizione. Tutto il comparto, dall'OS che lavora dentro il nostro reparto, all'infermiere e all'ostetriche, hanno garantito, nonostante le diversità organizzative, un'assistenza di qualità, un'assistenza personalizzata, basata sulle esigenze delle persone. Nel nostro reparto le regole non sono uguali per tutte, perché non tutte le persone sono uguali e facciamo un'assistenza basata sui bisogni della persona, della donna e delle richieste. Quindi ci tenevo particolarmente a prendere questo microfono per dire a tutte le donne non valutiamo le strutture soltanto sul sentito dire, le nostre emotività e le persone che lavorano dentro, veniamole a toccare con le nostre mani, a guardarle e quindi valutiamo il posto, se può fare al caso nostro per il parto, Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!